Grazie a tutti Grazie a tutti Radio 105 Tutta la magia della UEFA Champions League E l'avventura delle squadre italiane Che è morte nella competenza di calzistica Grazie a tutti Don't wait for the love you lost Someone needs the love that you have Don't wait for the love in me Someone somewhere got you back Don't call for the love Don't wait for the love you lost I told you it's true that they've arrived Just from the Italian I have decided to take it And take it Ok Diciamo così però poi quando c'è da fare sul serio anche noi lo sappiamo fare. Esatto anche perché in questi giorni migliaia di civili stanno morendo in Siria a causa di una guerra civile che vede coinvolti diversi eserciti e l'utilizzo delle armi chimiche. Eccoci gas che uccidono migliaia di innocenti lasciandoli soffogare nella loro stessa saliva ecco e a morire sono soprattutto bambini e ragazzi. Noi c'è Kavix che previene tutta la guerra e disintroduce la destinata. Kavix non ha male il tuo destino. Ci seguiamo in un'esercizata e un esercizista ecco prima di andare in un nuovo esercizista che è diventato poi un'unica carica. Non possiamo andare in un'unica se potrebbe essere tanto per il problema che è finito da un giro a tappare. Esatto. 20 febbraio. Trofino che ci hanno segnalato. Vai non! Contata di Groupways Euro e sconti sull'acquisto delle auto del gruppo riservati ad aziende e partite IVA. Ad esempio su Jeep Compass il bonus vale 7000 euro di sconto sul prezzo di listino. Prenotalo subito su bonusimpresa.it Affrettati, il bonus è valido solo fino al 30 aprile. Limiti e condizioni su bonusimpresa.it Esco alle otto, torno alle sette e prossimo settimana madrile. 17 quadri di Skype, 36 del genitale Teresimani. Seguiamo le gambe, vai, dai. Siamo. Il profilo aperto perché se già comincia a chiuderlo, ragazze, ti dicono la versione loro del mondo, vai. Andiamo a andare a... Ma 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 se creano un profilo più... Mi direte dai cosa... Come si dice dai spara. Sparro. Ma non lo faccio lì un figlioso. Come se la rete fossi solo su... Dividi. Va bene dai, in realtà è una notizuola musicale, il volo abbandona il papirico per... Fin qua è il sistema classico di Instagram. Il profilo che posta delle belle foto, lo segui, gli metti like. Non è che... Sì, ma c'è la malizia... Eh, dobbiamo chiudere. La malizia è la malizia... La malizia è la malizia... Letti offerte imperdibili. Lo sappiamo, che te ne parleranno i tuoi amici. Ecco perché, quando parliamo di altri, c'è solo una cosa che vogliamo... Presumo che fosse uno di quei giorni lì, si tratta cosa di sei mesi fa, 89 anni, di uno dei padri del rock'n'roll, così chiudiamo anche tutto il cerchio che abbiamo aperto in inizio di puntata. Abbiamo sentito Chuck Berry, abbiamo sentito... Aspetta che non mi ricordo più chi c'era all'inizio, per aprire la nostra... Fa vedere, aspetta c'è un po' la scaletta, perché non... Aspetta che non mi ricordo più chiudere... Sì, ma c'è un po' la calzetta, perché non mi ricordo più chiudere... Benissimo, Gabriele... Grazie, buona giornata... Grazie... Pronto? Sì, sono io? Sì... Ciao, Maria... Io volevo dire una prichiera... O Gesù dalla croce, ti guardo ogni momento, nel cuore la tua voce, l'ascolto e sto contento... Con le braccia protesi ci stinge tutto al cuore, con le diagaccese sandesi il dolore... Mi esorto già... Grazie... Grazie... Grazie a voi... Pronto? Pronto, Pagani... Pronto? Pronto... 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 La scattatura delle soluzioni abitative che non possono essere stato portati mai ha spiegato, ospite di un fatto giorno, David Pizzini, il gerologo e responsabile della prototiprice della partigiana. Oggi è il turno della Juventus, stasera i bianconeri dovranno realizzare l'impossibile andando a vincere in casa della Real Madrid con tre reti di scarto. Domani invece... Questo radio è una perdita di tempo. Ogni secondo che passa l'auto che desideri potrebbe essere venduta. Spero non fosse quella. Ancora 19... ...di caratteri che nel contrario rimane assolutamente invariata. A dire dal greco Alin che vuol dire di nuovo e Dromos che vuol dire percorso appunto che può essere letto in tutti e due i modi. Una scattatura delle soluzioni abitative che può essere letto in tutti e due i modi. E' un film che conosceva in mezzo in tutti e due i modi. E' un film che ci deve essere letto in tutti e due i modi. E' un film che ho mai visto in tutti. Grazie a tutti.